Detto questo, grandissima giocata qua del numero 11, Kleber, che sta dietro, sta facendosi sentire tanto. 37 anni, eh? Quest'anno va per i 38, è ancora un dinamismo, una lettura, ripartenze. Qua anticipato e poi è andato subito ad attaccare lo spazio, 3 contro 1. Su uno dei due giocatori fuori. Dipende, perché vedi, in questo caso il portiere ti fa dire, la porta è chiusa, se vuoi giocare devi aprire. Qua l'ho anche viene, che c'è di porta, arriva il 2-3-1, da parte del sesto, che ha trovato la deviazione vincente, blackout totale da parte del Sainz e il sesto, allunga con il nuovo massimo vantaggio, più due. Eh, qua Renan e Kleber stanno, stanno giocando proprio, stanno facendo una partita. Monster, mi viene da dire, anche qui punizione, schema eseguito alla perfezione, tempi giusti, sia di attacco dello spazio, sia di gestione del pallone, stanno, stanno dominando. Quante volte lo va a creare a sinistra, ma le distanze non ci sono. Devono aprire il perimetro, eccola qua. E arriva il gol del 9-7 del sesto, che trova il nuovo più due su questo power play, ed è un gol importantissimo. perché... Un altro che ha giocato Kleber, ha giocato una partita oggi ragazzi, sai, 37 anni, ha avuto un minutaggio di 25-28 minuti, ma... ...pra brutta, brutta, brutta...